benvenuto in una trasmissione della ferie libro virtuale italia in questa occasione abbiamo la presenza di alberto moreno bustos e stefano carbone che presentarà recitali poesia due espone dello stesso mare grazie alberto e stefano per sere con noi avanti micel grazie grazie mario un saluto a tutti e buonasera a tutte le persone che sono in ascolto sì infatti questa sera è una serata particolare perché ci sarà un reading poetico a due voci e presento brevemente i nostri ospiti allora abbiamo alberto moreno bustos che è nato a madrid è laureato in storia e poi ha una laurea in didattica e entrambi i genitori sono insegnanti giusto alberto si entrambi la professione della famiglia mi è piaciuta la definizione che hai dato anche di te stesso che anche tu sei un marcante di luce in questo caso no quello è stato per un libro di come come era di di col cantautore ti ho scusato ancora ho in testa la lezione della quale sono appena uscito vabbè siete un cantautore italiano ok e roberto vecchione certo sì sì e tra l'altro anche lui è un grande professore hai frequentato l'erasmus a bari e quindi diciamo ai poi ti sei avvicinato poi alla poesia e hai partecipato anche a dei recital madrid e coordini ad una rivista giusto una rivista online e invece dall'altro lato abbiamo stefano carbone lui è nato a bari invece vedi il punto in comune tra voi due è proprio è proprio questa città che via che vi accomuna anche lui ha una laurea in editoria e giornalismo e quindi diciamo che la comunicazione è un elemento di contatto e poi ho letto che stefano sei stato a santiago de compostella e per un master anche in turismo e gestione d'azienda giusto effettivamente sì la città di santiago mi ha dato moltissimo non solo dal punto di vista dell'istruzione ma anche dal punto di vista personale in realtà è lì che è cominciato il mio percorso in spagna che prosegue tuttora nella città di madrid attualmente tu ti trovi a madrid e sei a madrid casa mia mio gar si dice e tra l'altro collabori anche tu con diverse testate giornalistiche ti occupi prevalentemente di temi abbastanza importanti direi assolutamente di attualità che vanno attenzionati quindi l'ambiente temi il tema dell'ambiente dei diritti umani e quindi anche dell'inclusione sociale soprattutto diritti lgbt che insomma in questo periodo molto complicato è molto importante la verità parlare anche assolutamente e dare spazio anche a questo tipo di notizie assolutamente sono d'accordo e avete ideato per questa sera un reading due sponde dello stesso mare innanzitutto com'è nata questa collaborazione tra voi due vabbè noi ci conosciamo da madrid cioè noi ci siamo conosciuti veramente ora non ricordo dove ma in un poetry slam io me lo ricordo bene perché alberto aveva dedicato proprio una canzone a bar un per scusate una poesia a bari alla caserma rossani è rimasto proprio impressa questa cosa e ci siamo conosciuti lì la prima volta poi avete proseguito la collaborazione no in realtà a lavapies la tabaccalera che è un centro sociale molto bello che chiunque ci stia ascoltando i passi per madrid in un'epoca magari meno meno problematica di quella attuale va assolutamente passi perché a parte dal punto di vista visivo e meraviglioso perché ci sono un sacco di murales io sono molto appassionato di street art e di arte in generale ma organizzano un sacco di eventi in uno di questi ho potuto vedere alberto recitare proprio in italiano di fronte a un pubblico spagnolo in prevalenza quindi mi è rimasto proprio impresso è stato come un quasi un colpo di fulmine diciamo sì ma bellissimo ora che ci penso fa più di un anno che non ci vediamo in persona davvero sì tanto tanto poi ti dico perché forse il sabato ci potessimo vedere se torni però invece io ho una curiosità per entrambi la domanda la rivolgo a tutti e due come avete iniziato il vostro percorso nella poesia vabbè inizio io io ho 12 anni io da piccolo che io sono cresciuto in una casa dove c'erano tanti libri però a 12 anni scrisse la mia prima poesia e poi da quel momento ho iniziato a vivere la poesia come una questione quotidiana quindi delle volte scrivo di più delle volte scrivo di meno però per me penso che la poesia sia una sorta di approccio sulla realtà come musicisti come scientifici no e penso che il poeta sia una persona che che abbia un rapporto quasi magico con la realtà essendo io essendo io personalmente profondamente ateo però è una sorta di cantante di di sciamano della realtà per dirlo di una forma quindi io vivo la poesia di una forma quotidiana non è che scrivo tutti i giorni però per me parte di me però è importante invece stefano allora io sicuramente come come alberto ho cominciato in realtà sono cresciuto in una casa dove si leggeva tantissimo ma poca poesia ed è stata una diciamo una una conquista che che ho realizzato da me ecco è come un pezzo di me che mi sono scavato nell'ambito letterario e in realtà è nato per caso rubando fra mille virgolette a mia madre un piccolo volume di poesie di emily vickinson che mi ha semplicemente si incantato e da lì mi sono è un tipo di poesia la sua che mi piace tantissimo e che tuttora è il libro di poesia più consumato dell'opera completa di emily che mi porto in giro per il mondo e che sempre non abbandono mai sicuramente davvero mia non dico consacrato perché mi sembro esagerato però quando ho capito che davvero la poesia era qualcosa che mi piaceva tantissimo di cui non potevo fare a me quando ho conosciuto tra mille virgolette sempre alda merini che davvero sicuramente la mia potessa preferita e ho cominciato a scrivere da piccolo ma realmente il momento in cui ho deciso di proprio tirare fuori di partecipare a concorsi è stato stranamente non in italia bensì in spagna a madrid e neanche a santiago ma madrid in in occasione di alcuni micro micro obietto se si chiamano in spagna e in quelle in quell'occasione ho fatto un tentativo ho detto vediamo che se che riesco a tirare fuori e da quel momento in realtà il mio percorso da quando ripeto solo a madrid è stato io scrivo veramente tanto soprattutto in questo periodo e davvero credo che la devo dare tengo che darla sgraccia se lo dico un po po in spagnolo perché di dovere a madrid perché veramente grazie a all'incontro con questa città si tratta sempre di incontri un po nella mia vita e sono riuscito a trovare il coraggio di esprimere di pubblicare bene io vorrei vorrei darvi subito la parola per ascoltare iniziamo già no con la lettura delle vostre poesie diamo gialla ai agli ascoltatori per la possibilità di conoscere anche la vostra scrittura io vorrei iniziare non con una poesia mia ma con la poesia di john margaret che è stato un poeta catalano che è morto proprio una smessa che tre settimane fa quindi sì che si chiama la libertà questo non è un poema mio poi stefano leggerà una poesia una cosa è una traduzione mia quindi la libertà e la ragione della nostra vita dicevano dicevamo studenti sognatori la ragione dei vecchi puntualizziamo adesso la sua unica ed eccettica speranza la libertà è un viaggio strano sono le piazze editori con le sedie sulla sabbia nelle prime lezioni e il pericolo che di notte ci innaccia al me alla metro sono i giornali alla fine della giornata la libertà è far l'amore nei parchi è l'alba di un giorno di sciopero generale e morir libero sono le guerre mediche le parole repubbliche e civile un re uscendo in treno verso le stili la libertà è una libreria andare senza carta di gente di identità di identità le canzioni proibite una forma d'amore la libertà bellissima poi molto significativa tra l'altro grazie alberto e invece ora passo la parola a stefano sì io inizio con una poesia mia e che ho pubblicato sul mio blog che può essere dove pubblico sia in italiano che in spagnolo se mi date la possibilità dopo mi piacerebbe leggere una poesia in spagnolo tradotta poi assolutamente sì sembra un esperimento interessante perché la poesia non è solo parola ma è anche ritmo musicalità e musicalità e può essere interessante immagino anche per gli spettatori insomma questo piccolo esperimento però per ora comincio con una poesia in italiano e si chiama mi servi qui mi servi qui con la tua libertà e indipendenza mi servi qui ignorando il tarlo che rode le mie membra mi servi qui vittima innominata dell'altrui desiderio additata di falsa aspettativa mi serve qui qui viva creatura mi servi qui l'ira intonsa da pretesa mi servi qui felice e non lasciva e non pura e non mi servi qui santa incauta mi servi qui superba vanità e rancore mi servi qui con e senza l'amore mi servi tu senza altra declinazione mi servi qui perché possa gioire la lontananza mi servi qui forza e indipendenza grazie stefano anche la tua è molto molto intensa soprattutto anche per il ritmo che hai dato grazie grazie allora proseguiamo con alberto questa è una poesia mia che è anche una poesia che la storia quale io l'ho scritto è molto bella io l'ho scritto quando avevo vent'anni e alla caserma rossani che possiamo dire la la tavacalera di bari che io al tempo quando ero a bari ebbe la fortuna di partecipare proprio all'occupazione di quella caserma e scrisse questa poesia che si chiama che cosa è la poesia la poesia nasce la poesia è il buongiorno che tu mi offri non è quella che tu studi per le apeli di giugno dove si uccidono il fiore di dante quel posto chiamato a teneo dove si recettano le vicende a memorie del discorso coperto di cenere la poesia nasce nella caserma rossani nel momento in cui tu mi saluti e io ti saluto come va hai bisogno di qualcosa la poesia nasce nel momento in cui ci sveliamo e il fiore il tramonto i posti e verdure al mercato la poesia nasce sul sole sotto la pioggia il giorno la notte gli alberi poesia è tutto però la poesia non si trova nei versi di dante e petrarca imparate di memoria per un pezzo di appello di carta di nulla insegnato per un'ombra a costo di tagliare le ali di tutti i bambini di tagliare le rose il tramonto lo state tutto la poesia non nasce nelle biblioteche ricordatevi questo la poesia non nasce nelle biblioteche però se tu cercando parole prendi a dante a petrarca ai malclamati classici per così dimenticarvi di altri danti se prendi quelle parole come prendi il profumo a fiori delle prime ore del mattino tu sarai dante e Dio sarò la tua Beatrice e tu sarai Dante e tu sarai Petrarca perché Petrarca e Dante e Shakespeare di Giulio te e me siamo vivi e tutti i fili del mondo l'inverno e l'estate le primavere al mondo sono vivi ora tra te e me e quello quello è la poesia grazie Alberto qui hai citato dei grandissimi nomi quindi ovviamente tra l'altro il festival è proprio dedicato a Dante quindi hai omaggiato in qualche modo proprio anche il simbolo del festival della fiera virtuale del libro Italia e invece non so se Stefano vuole leggerci qualcosa in spagnolo giusto? sì, allora un momento solo questa è una poesia alla quale sono molto affezionato perché nelle mie poesie a me piace trattare di tematiche che sono un po' lasciate diciamo in disparte anche in generale dalla società vuoi citare il tuo blog? certo, certo Poesias y Echizos è in spagnolo il nome però il blog ripeto è di lingue il mio sogno è farlo diventare multilingue quindi che persone di molte nazionalità possano perché io do anche spazio alla pubblicazione di chi non ha voce ancora chi non ha una casa editrice perché penso sia io mi sono trovato in quella situazione ed è molto importante incoraggiare le nuove voci che possano esprimermi abbiamo bisogno veramente di tanta pluralità di tante persone che apportino qualcosa appunto sia alle lettere che alla poesia che in generale al dibattito pubblico e ripeto la mia poesia parla anche di femminismo parla di essere orgogliosi di se stessi di tematiche LGBT a volte sono non binarie le mie poesie e questa è una di queste parla un po' di tutte queste cose di tutte queste tematiche che mi sono molto care e si chiama Regina e Re di Coppe la leggo prima in spagnolo se vi va bene sì e poi la leggo la traduzione scusa ma una cosa bella di Stefano di me è che noi abbiamo scritto poesie in una lingua che non è la nostra io ho scritto poesie in italiano certo infatti penso che sia la particolarità di questa iniziativa di questo evento e niente io sono convinto come Alberto che veramente imparare una lingua e soprattutto scrivere in un'altra lingua ti apra infiniti mondi soprattutto perché hai la possibilità di leggere cose che sono lontane dal tuo sistema educativo io ho scoperto tante cose tanti autori, autrici da quando sono venuto qua e sono molto orgoglioso di aver fatto questa scelta e di avere la possibilità appunto di leggere e scrivere in diverse lingue e animo lo dico in spagnolo ma immagino che lo capiscano da tutto il mondo a chiunque abbia intenzione di farlo di buttarsi perché questa era la cosa che soprattutto a me mi bloccava e spero veramente che chi sta cominciando si butti gli errori li facciamo tutti li commettiamo tutti l'importante è andare avanti e migliorarsi assolutamente senza farsi troppi problemi e questa poesia si chiama Regina e re di coppe in spagnolo reina i rei de copas viento de enero atardecer detrás della sombra invernale nieve ielo niebla cascara de un futuro resiliente sueños enredati entre terra e cenizas pasos in la hierba quemata un monte che si chiama la selva junto alla luna e io che miro in la ventana come Penelope esperando il maggi teggiendolo qua però sin gestas di amore passato sino cuentos historias vivas hadas vestidas de guerra e reinas de poderoso deseo così miro al espejo agujero di vanità abbracciando il coraggio valiente una manzana indecente che devo mordere a quien quiera io che vivo in mio proprio corpo cuerda para los otros duegna de mi deseo así reina il rey de copas una mano affortunada in mi turno de juego orgullo de stare en mi piel bellissima anche la sonorità molto è bravissimo grazie grazie mille è una poesia alla quale sono molto molto affezionato se mi dovessero chiedere di leggere una poesia che ho scritto sarebbe questa e adesso la leggo rapidamente in italiano per dare spazio di nuovo ad Alberto vento di gennaio tramonto oltre l'ombra invernale neve ghiaccio nebbia guscio di un futuro resiliente sogni intricati fra terra e cenere passi nell'erba bruciata una montagna che risveglia la flora con l'arrivo della luna ed io che guardo dalla finestra come Penelope nell'attesa del domani te solo cuace senza gesta di amori passati ma con racconti storie viventi fate vestite per la guerra e regine di potente desiderio così mi guardo allo specchio la cuna di vanità appuntando il cuore coraggioso una mela indecente che lascia mordere a chi lo desideri io che vivo nel mio corpo folle per gli altri padrona del mio desiderio così regina e re di coppe una mano fortunata nel mio turno di gioco l'orgoglio di stare nella mia pelle grazie veramente molto bello ovviamente grazie a voi ho apprezzato entrambe le versioni anche se lo spagnolo lo capisco però non lo parlo però fa sempre un bel effetto grazie ancora invece quindi passo la parola ad Alberto anche tu ci leggerai qualcosa in spagnolo Alberto sì però io preferirei leggere ora una poesia che è nata in italiano poi la ho ok e poi l'ultima poesia sì la leggerò direttamente in spagnolo per non provarsi ok si chiama Mattina d'autunno la scrissi a Toledo è l'ora in cui i suoni si intrecciano col sole tiepida luce di ottobre sulle mie labbra tu suoni io da un bel po' che volo sopra i tetti magici sopra questo rumore come un'esplosione di bombi o fiori capace di rompere l'igaccio delle strade il brivido in cui nasco il bacio che mi sconvolge al di là del divino del profano voglio perdermi in questa passione in cui mi fermo così ferma l'universo in cui sono acqua e fuoco oh mio dio profano due corpi nudi hanno partorito questo mondo e il piacere di toccarti sacre boche semi in terra intrecciate con la vita rinasci con me in questa mattina d'autunno bellissimo grazie e vogliamo proseguire con Stefano quindi sì chiedo direttamente a te se vuoi che legga un'altra poesia in spagnolo e in italiano oppure preferisci che ne legga una direttamente in italiano come preferisci tu la serata è tua quello che ti sente allora mi piacerebbe leggerne almeno un'altra in spagnolo sempre dal mio blog che si chiama Gemelli un'altra tematica che mi piace affrontare spesso è un po' diciamo tutto quello che è un po' sovrannaturale la magia l'oroscopo legato ovviamente alla natura e questa appunto parla di un segno zodiacale ovviamente dedicato a una persona molto molto speciale per me e niente la leggo e mi direte voi che cosa ne pensate va bene Géminis desperté pensando in tus ojos una gota de infinito in la rebelione del firmamento una explosione universal il poder che transforma il caos in cosmos Castor e Polux perdidos in sua navigazione una evocazione llameante in il medio del invierno energia primigenia locuaz di allegoria la fuerza gravitazional che mi acerca a ti questa notte conozco sin miedo mi feroz pertenenza anclada al desafio di tua mente il sol e la luna dos luci satisfechas del deseo ancestral tu sin pacienza incapaz di parar o quedarti quieto un huracan di ingenio che non si deixa atrapar in la plomba e cadena della routine e è questo che mi agarra il alma come cantico del melancolico pasado revelando la doble cara di questo amor espera e anello calma e tempestà un sosiego che non si non si da per vencido tu tu nombraste cada uno de mis vicios curando pertenecer solo a mis labios tu seras quien elija día tras día el verdadero rostro de nuestra vanidad enredando mis ganas informazione qui e penso di averlo pigliato si dice in spagnolo un po' quel ritmo della poesia in spagnolo poi poi a madrid io penso che la fortuna di tua è che tu sei arrivato a madrid avendo comunque una cultura letteraria grande perché se tu arrivi se tu inizi i tuoi primi passi senza avere una cultura poetica e arrivi all'aleatorio scusami l'aleatorio è un bar tipico è uno dei più caratteristiche di madrid c'è poesia tutti i giorni non è che il livello letterario sia un'opinione mia personale io non userei mai una parolaccia in una poesia mia per strada sì dipende dipende nel senso penso che se ti piace Bukowski probabilmente qualcuna sale però ripeto è vero che quello che dice Alberto è vero io all'aleatorio ancora non sono andato è un posto storico dove dove si fa poesia e lo dico per chi venga a Madrid ripeto in un'epoca migliore perché possa andare ad andarci a vedere speriamo di essere lì un giorno io personalmente sono molto me lo dicono sempre usi spesso parole antiche anche in spagnolo che è una cosa un po' che c'è nella poesia classica italiana e che io apprezzo tantissimo e non riesco a togliermi questo vizio che per me vizio non è ovviamente è vero che sì che la mia formazione in Italia mi ha influenzato molto e sinceramente sono molto contento non perché quella spagnola non valga assolutamente però la poesia italiana per me è davvero un pezzo di me non posso che riconoscerla come davvero come un pezzo di carne di anima di tutto e proseguo con rapidamente così lascio spazio ad Alberto sì perché abbiamo ancora pochi minuti d'accordo io devo tornare a lezione ah molto bene gemelli mi sono svegliato pensando ai tuoi occhi una goccia ad infinito nella rivoluzione del firmamento un'esplosione universale il potere che trasforma il caos in cosmo castore polluce persi nella navigazione un'evocazione fiammeggiante in pieno inverno energia primordiale lo cuace d'allegoria una forza gravitazionale che mi unisci a te stasera conosco indomito la mia feroce appartenenza ancorato a un confronto con la tua mente il sole e la luna due luci appagate da desiderio ancestrale tu impaziente incapace di fermarti o star tranquillo un oragano di acume che non può essere catturato nella plumbe a catena della routine è questo ciò che mi appiglia l'anima come una melanconica canzone del passato che rivela il doppio volto di questo amore attesa e brama calma e tempesta una pace che non si arrende tu che hai nominato ognuno dei miei vizi giurando di appartenere solo alle mie labbra sarai tu a scegliere giorno dopo giorno il vero volto della nostra vanità intrecciando il mio desiderio in un fugace respiro d'eterno grazie Stefano molto bella anche questa e passo velocemente quindi la parola ad Alberto io voglio finire con una poesia che ho scritto poco tempo fa che si chiama Sett'anni precisamente pensando a che facevo Sett'anni da quella mia esperienza a Bari che comunque è una cosa che mi è rimasta e poi è anche una leoria a Petrarca no a Petrarca no a Pasolini scusa era il giorno delle bandiere reali nel mio sorriso di cappellunghi e Bari come una città aperta dove si ascoltava il suono del mare e del profumo delle pizzerie delle angosce strade di Bari Vecchia era il giorno della mia luce dove avevo un bocaccio tra le dita nel cuore ed un tramonto sulle labbra e all'angolo una bambina di 70 anni con la sua piccola libreria dove profumava sempre a polvere di stelle a polvere di stelle appena fatti che giocava con bambini e rivedeva scusa e riveda sapendosi custode del viaggio degli uccelli vicino al castello Esevo e le muraglie dove si arrivava in piazza del Ferrarese tiepido febbraio e nel mezzo del cammin capire finalmente che l'eternità era un cielo rosso che brillava sotto le case sotto i campi sotto il mare e poi capire che tutti si è in polvere di stelle era il giorno della mia luce un panzerotto ed una birra erano il mondo in quella vecchia taverna del Maltese dove ancora si beveva insieme e si cantava Vittor Jara ed un bel l'acciao dove il partigiano tornava sempre vincitore e vivo ed in piazza il pazzo di Michè sempre col sorriso col cappello di feria gli occhiali di feria in un mondo follemente accorto e poi di Andrè Guccini Giorgio Gave Francesco De Gregori Vasco Rossi Roberto Vecchione il mio canto libero in quella mia primora di libertà l'occupazione della caserma Rossani poesie e rivoluzioni tessute negli alberi era il giorno della mia luce Lecce Polignano Amare o tanto Barletta Cerminola Matera il tempo dell'amor ma senza parole dove nascondere il vero dove nascondere il vero di una donna ed in amore rinacque come in primavera Laura finalmente sparava il tutto ed era lei tra il suono del violino e le carezze di libri di carciofi dove rinacque il mondo senza navi ed era lei che uccisse le donne di polvere perfetti pezzi di nulla tra le dita e Petrarca maledetti poeti nemici della vita era lei e nell'amore sentirsi il sapore del pane era il giorno in cui capì cos'era finalmente la poesia e e lei nasceva il momento in cui prendevo il profumo fiore delle prime ore del mattino nata tra i posti di verdura al mercato era il giorno del tramonto ma Bari e Dante e Petrarca pezzi di fiori dove rinacque e dove sono ancora bambino grazie grazie davvero Alberto grazie anche a Stefano per questa bellissima serata di condivisione poetica è stato un piacere ascoltare le vostre poesie e condividerle ovviamente con tutte le persone in ascolto quindi spero grazie a voi grazie a voi salutiamo ovviamente tutti e grazie ancora un piacere grazie grazie a voi ragazzi grazie Alberto e Stefano per essere con noi per tutti quelli che si vedono vogliamo ricordarvi che il programma della prima fiera virtuale del libro continua e per favore rimanete con essi arrivederci grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti